Apre action nella mia città, direi nient'altro da aggiungere. Vi lascio con qualche clip e con gli audio originali perché noi ci siamo fatte un sacco di risate. Oddio mio! Questi sono i pennelli per scrivere sulla ceramica. Anzi sono mai finito ancora. Esatto. Grazie. Ah, brava. C'è anche la satanua. Faccio tutti i prezzi. Ciao, ciao. Ah, come veloci? Per i lucciani, per i placci, per i piedi, per i macchi. Sai che ha piccato? Sono bellissima. È un casino Fabià. Poi la spesa secondo me dopo non la vai più a fare. Scusa via. Ti ho detto, tu mi hai iscritto. Ti ho detto ti ascolto dopo perché c'è lei. Questa mattina c'avevo l'italia di questa boccettina. Mi autorizzi a metterti su YouTube. Questo è comodissimo. È vero. Eh, sentivo che c'era qualcosa che... Oh, questa? Ah, io mi devo prendere i pesi però, quello so. Allora, ci siamo... L'ha sempre voluto, cheat. L'ha sempre voluto, cheat. Ma non li vuoi prendere? Io non li mangio, li metto per bellezza. Belle le butt bones. Buff, mezz'ora che c'è basta. Scusate. Ecco. Ma basta mangiare. Mmm... No, no. No, queste sono troppo belle. Però è x... x mi piace... Vado a vedere io. Ma è bellissimo Ma io lo voglio per casa No, gli orsi è bellissima Oddio mio, ci sono Ci serve un altro carretto Ma non ce l'hai in bagno e negozio? Ma ci entro solo io nel bagno e negozio Ci entro solo io, non c'entra nessun cliente To, uno scopino Eh, lo scopino puoi comprare se lo devi cambiare No, ma non si ci può fare Allora, dobbiamo comprare il detersivo Abbiamo scatole, scatoline, scatolette No, ma qua ci saranno quelle per il frigo anche Ah, io voglio mettere queste in bagno Ecco, sono venuta solo per questo, guarda Guarda, domani ce ne saranno due No, l'attice è E continua ad illuminarsi da tre anni nell'armadio Qual è più brutta? No, bene No, vabbè, ma ci vengo con Paolo Ah, va bene Sì, dai Quindi li troverai mai più Eh, guarda, non li troverò mai più Cosa? Dopo che ho lavato Guarda, ci compriamo il pigiama di coppia per Natale Mi fanno da cagare Ogni tanto ci possono finire il pagamento Oh, ma ora spinghi con questi Natalini Ah, che dove vengono Belle Guarda, per il villaggio di Natale ci sono anche piccoli C'è il pinguino Insomma, abbiamo un problema Oh, che carino Sì? No, vabbè Puoi vedere? Oh, guarda No, cos'è questo? Un bicchiere Da beve Da beve Ma non è se parlo romano Ecco, io volevo prendere quelli lì ad Albenga Carino Eh, sono bello Anche l'albe Ma io quello l'albe Calze mutande, collant, calze dei bambini C'è una C'è le calze di Frozen Ci sono le calze di Frozen Di Spiderman Delle LOL Questo è chi è? Mini Cabal LOL Bellissime Anche le mutande Il pigiama Di questi dovrei prenderne così Dai, tre euro Noi ne dobbiamo prendere due Ok, poi passiamo a detersivi No, che detersivi? Magno schiumi, sciampi, palle da bagno di tutti i tipi, di tutti i colori Maschere Le maschere, le maschere le passiamo Questi sono quelli che ho comprato Albenga Queste sono le fasce per i capelli Ce l'ho adesso Ce l'ho? Me le hai regalate? Ce l'ho? E io li sto utilizzando Ma che packaging, guardate che packaging Che packaging Io le comprerei solo per i packaging Vedi? Quello delfino che ti dicevo Ah, è vero Noi abbiamo preso questa, quella che manca Allora, adesso calze della Befana Oh, bellissimo Sono da mangiare questi Esatto I decodini, i mascherelli Dovete nella cioccolata Ma poi, guardate che carine Cioè, dai Sono troppo belli Ah, la pasta di zucchero Ah, questo è buono L'ho bevuto da qualche parte Tipo un gabinetto Buone Uno spray Credo siano cinci Tu ti ricordi questa grandissima porcheria? Sì, sì, sì Io devo comprare cose per i bimbi Ma quanto è grande? Ma è vero? Ma è vero? Ah, c'è anche la madre Ma che belli Ma io li voglio solo tenere in frigo per bellezza Però l'olio di cocco Vediamo se è 100% Ci fanno un po' con testa? Sì 33 euro è pochissimo Pochissimo Eh, vorrei capire se è 100% olio di cocco Miele è anche pochissimo Sì, olio di cocco raffinato Ma il miele io lo prendo dal contadino Ma ci sono anche tipo i noodles Fabi Ah, che miseria Ma con il frigo mio c'entra I semi di giro a sole Questi sono buoni Ne li ho fatti in friggio E di per i pappagallini Allora, dividendo i due carrelli Perché uno non ci bastava più Sembra che ha comprato tutto lei E io ho comprato niente Sono venuta per questo io Allora, ricominciamo adesso Dove stiamo andando? Un lucchetto per la scarola? Ah no, non c'è Per i pilosi Per i pilosi Per i pilosi Quanto costano? 1,39 euro Un osso Che cosa sarà? Ah ecco, siamo tornati indietro Perché ci mancava questo reparto A me servono cucchiaini Guarda Ah, ecco questo mi serve E questo che c'era Brava Questo mi serve Butto tutto Butto tutto Ma guarda No, scusa Però C'avessimo un ristorante Guarda che cari Avessimo un ristorante No, però Però quando d'estate Fai gli aperitif In terrazza Cioè, ma guarda che cute A 99 cent Poi, cioè, vabbè Non perdere ciotole e ciotoline Che me le comprare tutte Questa grattugia qua Mi voglio comprare Niente, ci siamo bloccate Ah no No, no Allora Adesso io mi compro un barattolo Per Mettere il marimo Ah, io però il marimo ho detto No, vabbè Tanto siamo bloccate qua Vi faccio vedere cosa c'è qua Ciotole Ciotoline Ciotolette Basso in bambù Bello quello Belle, belle, belle Accessori Ho preso cucchiaini così Ah, vediamo Porta scottex in legno Oh, le cose in oro Ragazzi, bellissime Questo per le posate Eh, 2,90 centesimi Butto quelle che ho Un'altra Un'altra Cioè io l'ho pagata 2,50 euro Da Sì, 13,18 Anche io Trova chiavi Lo attaccherei al collo di mio marito È molto bello Ah, tra l'altro sto andando in trip Con la foglia Questo è il tatuaggio di bianca Eh, di Maria Bianca anche No Questo è per le creazioni Delle mie amiche Che Che pitturano Io non compro niente Perché non me ne capisco Però Eh, b Per b Che pittura B pittura Ah, lo gnometto Vai qua Gnometto Sono 4 in tutti Sono male Sono male Sono venuta solo per questo Sono venuta solo per la cassettiera La cassettiera Con tipo La volevo prendere Ah, scusa Questo non l'avevo visto Ciao 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 Ci vediamo in piscina Ehm Andiamo L'ha sempre sognato Ma proprio questo Tu devi vedere Va bene Dai Dai che siamo a piedi Io e il mio Nuovo Gnomo Bellissimo Siamo arrivati a casa E Quindi ci vediamo In un prossimo video Per l'unboxing Perché sennò Avrebbe troppo Troppo lungo Ma prima Siamo aiutti a casa